om shanti il potere dell'onestà se la mente fosse un santuario trovereste sempre la porta aperta e un'atmosfera di pace permanente questo richiede onestà pensieri onesti sono quelli che non buttano giù nessuno parole oneste non diffamano né colpiscono come lame azioni oneste non invadono la proprietà altrui così come le parole oneste non invadono la vita altrui siate così veri da riflettere la verità sul vostro volto gli altri vedranno chi siete e chi sono loro come uno specchio e vorranno specchiarsi per sapere come procedere e non avranno paura di vedere la loro povertà perché mentre questa diventa visibile dall'altro lato della povertà ci sarà l'immagine dell'abbondanza che saranno non prendere mai la legge nelle proprie mani criticando e diffamando è la forma più nobile di onestà chi non ha ancora iniziato a lavorare su di sé guarda gli altri e addita ai loro difetti anziché guardare i propri limiti e usare la poca energia per cambiare questa responsabilità è onestà om shanti e addita ai loro difetti e addita ai loro difetti